di fatto un video che sta passando a YouTube che mi ha detto il signor Carlos Monk ha espresato il mio spagnolo a diversi punti e ha fatto una denuncia pubblica nell'idea spagnolo di un supposto colpo di Stato qui è in Corso e il video è un po' meno di uso del logo e del scudo del suo ministerio del suo ministerio da parte di Borobiano ma che è il nostro luogo che è un gatto? mi chiede la nostra tua notte di Gia Cava in tutto caso in cui parte i merdi è una serie con un breaking news che il governo in tutto caso il numero di governo il ministro Monklo ha emittato un video che è la butata che arriva a YouTube mi chiede che è bene a casa che non ci sia un compagno mi chiede che in tutto caso nel momento in cui abbiamo un algo offiziale di governo esatto a base di decisione con il governo di Tuma mi chiede che è un'iniziativa proprio di parte di ministro encargar con la cartera di insegnanza cultura e deporte quindi è un po' di distanza e è un po' di distanza e è un po' di distanza e è un po' di essere che non c'è qualcosa che il governo in tutto caso è un po' di essere che c'è qualcosa è un po' di distanza come Ministro di Educazione, Ciencias, Cultura e Deporti del governo di Corozano voglio expresare e al stesso tempo fare una denuncia internacional di lo che in questo momento sta succedendo in nostra isla, in nostra piccola isla, del Caribe possiamo dire e posso denunciare a la comunità internacional di che in questo momento sta perpetuando un golpe di Estado il fantasma che recorriva per tutta Latinoamérica per tutta il Caribe, Centroamérica, in questo momento sta posizionando in nostra isla un golpe di Estado dove la extrema derecha, dopo di 20 anni che fuero destituido dal poder nel 2010 per elezioni legittime, in cui i movimenti sociali independentisti erano elezioni per il popolo, dopo due anni di trattare di rubare il governo in questo momento lo stanno facendo per mezzo del Parlamento sostenito per il governatore, che è il rappresentante della corona il rappresentante del governo holandese quindi possiamo dire che questo golpe di Estado anche nel sostegno del imperio europeo e del imperio holandese perché questo golpe di Estado? per molti cose, per molti cambiamenti che questo governo, come a chiamarlo il governo social un governo con un progresista, emancipatore, independentista un governo in cui abbiamo sacato di la privatizzazione di molte delle imprese che formano la parte strategica e economica di nostro paese la stiamo nazionalizzando, un governo in cui siamo con questa viola social che ha avuto la nostra comunità, il nostro paese per queste politiche neoliberali che si eseggiarono per mezzo del Fondo Monetario Internacional che anche fuero eseggiato qui in questo paese e che causò molta poverezza e molta miseria ora stiamo pagando questa viola social a nostro paese in cui, entre altri, stiamo instituendo una insegnanza o una educazione gratuita perché è un diritto, noi lo consideriamo come un diritto e stiamo instituendo molti più, molti più politiche sociali per poterle pagare la viola social a nostro paese la extrema derecha naturalmente con los hallazgos che si hanno fatto già confirmati desde hace già algunos anni che in nostri costi ha gas che in nostri costi abbiamo anche riservi di petrolio la extrema derecha trata per mezzo di questo golpe di stato sta tratando e va a tratar sempre di adeguarsi questi recursos per poterle suministrare a questi altri imperi recursos che sono del Pueblo in questo momento la extrema derecha sta facendo tutto lo possibile violando tutta constitucionalità e al stesso tempo legitimando questo golpe di stato per mezzo di un parlamento fantasma un parlamento, ci sono due parlamenti in un paese che è qualcosa completamente non visto un parlamento elegito per il Pueblo e un parlamento elegito per loro mesi e questo parlamento, il parlamento fantasma sta tratando di derrocar il governo con sostegno del governo holandese expresiamo qui nostra preoccupazione per questa violazione constitucional di un governo legittimo a quello che passò in Paraguay a quello che intente il golpe di stato in Venezuela come siamo in Bolivia, Ecuador e altri paesi che ora sta succedendo a qui in Pueblo Sao di una forma silenziosa e tutto e tutto sta sendo legittimato perché così è che si tratta così trattano di silenzio questo golpe di stato expresiamo nostra denuncia in questo momento internacional speriamo anche il sostegno della comunità internacional della regione sudamericana del Carribe e naturalmente anche la regione centroamericana per denunciare questo e dire a gli imperi che già è sufficiente e che nel siglo XXI non si va a permettere più golpe di stato in questa regione in la regione del Celac in la regione di Unasur in la regione centroamericana speriamo con il sostegno di un'azione accupimento di vivastrà l'uncia l'uncia di in tutto il caso è stata un'iniziativa di parte del ministro, fuori sul ministerio, e sa qui non è stato il tópico, è essenza di, in tutto il caso, la riunione del Consiglio di Ministro, è stata una carta con la salita e la meridia, ora non è trempante a tardi, del direzione del governatore, che in tutto il caso non si indica che il gabinetto scuola non può dare, in tutto il caso, una cooperazione nella quale è stata pretendendo di essere, che ha adquire il potere che non ha, e ha bisogno di sostenere il governo del reino, che ha bisogno di essere un reichs ministrati, come si chiama Ollanda, ma l'Ollanda che ha attuato inconstituzionalmente con la parte del lanzo organo che ha, e ha bisogno di un'unità di governo con la parte del lanzo organo che non ha autorizzato, che ha bisogno di dare un fallo grave che ha cominciato, e che ha bisogno di dare un'unità in direzione della comunità di Corsese. Quindi, la falta di rispetto, nel momento in cui è stata la elezione democratica, per il 17 ottobre del 2012, una figura, in tutto il caso, di una persona di governatore, ha creato una situazione di consternazione della comunità qui, che è stata la metà primordiale, che ha bisogno di essere il governatore di cuida e in hate di il governo. E in un dato momento, è stato un'unità. E quindi, il momento in cui è stata la firma carta di l'altro, è stata la incontrazione di cui è stata la incontrazione della comunità. E quindi, siamo andati in un'unità sulla storia, che è stata la incontrazione della comunità che è stata la crisi di cui è stata la commissione, e ci sono un politico in casa che formano una coalizione nuova. Quindi il paese qui, con l'accordo del 10 ottobre 2010, ha una constituzione. Il regalo del Stato è qui, la parola è clara, e l'articolo 53, l'accordo usare, il mardugà di 13 giusti, il decreto è emiti, che si raffichano in modo che si raffichano in modo che si raffichano, l'accordo usare, ademais, ha un punto che si raffichano, il suo supuesto gabinetto interino inconstituzionale come obdrag, per intervenire con un processo electoral. Io non ho finito nel momento, che ha decretato la fine della elezione, il Consiglio Supremo Electoral ha avuto potestà e autorità per attender, che il processo è un fatto sagrato, che il popolo deve eserere il voto democraticamente e secreto. E non ho finito, lo qual che, in tutto il caso, a sozio di ayer mi ti chiede, è buono per remarcare, un po' di più, il signor Franklin Zed e il popolo di Kosovo, che, in alcune circunstanti, non c'è nessun rende del paese qui, né il gabinetto scotta, né il missionario, né il governatore, né una maggioria di 21, che può fare la elezione di 17 di ottobre del 2012. Sì, non scotta, ma c'è anche il tuo punto di vista, un tuo passaggio buono oggi. Grazie, sempre l'oro. Buon, televidente, nostra parte per parte commerciale, lavoro con Jason Seberga.